Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle. Oggi iniziamo la lettura dell'Apocalisse di Giovanni. Sono 22 capitoli e poi nel corso della lettura di alcuni video aggiungeremo alcune informazioni che derivano da alcuni mistici come Maria Valtorta o Don Stefano Gobbi e questo per leggere insieme l'Apocalisse di Giovanni cioè il tempo che oggi stiamo vivendo nel mondo con l'attesa dell'inizio dei segreti di Međugorje e quindi richiamiamo noi lo Spirito Santo per leggere questo primo capitolo e poi seguiranno altri video e continuando ovviamente a leggere i vari capitoli insieme a video con le varie spiegazioni sempre ispirate dallo Spirito Santo e sempre che ci vengono donate attraverso vari mistici che ci sono stati e ci sono ancora per comprendere meglio l'Apocalisse di Giovanni. Ecco, quindi ognuno di noi è chiamato a prendere la Bibbia leggerla e poi informarsi attraverso YouTube attraverso Google per approfondire tutto quello che si legge cercando di non interpretarlo a proprio modo. Apocalisse capitolo 1 Prologo Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli chiede per rendere noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo riferendo ciò che ha visto beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino. 1. Le lettere alle chiese di Asia Indirizzo Giovanni alle sette chiese che sono in Asia grazie a voi e pace da colui che è che era e che viene dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo il testimone fedele il primogenito dei morti e il principe dei re della terra a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega dice il Signore Dio colui che è che era e che viene l'Onnipotente. Visione Preparatoria Io Giovanni vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione nel regno e nella costanza in Gesù mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Rapito in estasi nel giorno del Signore udì dietro di me una voce potente come di tromba che diceva quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. a Efeso a Smirne a Pergamo a Tiatira a Sardi a Filadelfia e e a Laodicea Ora come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri c'era uno simile a un figlio di uomo con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. i capelli della testa erano candidi simili alla lama candida come neve aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco i piedi avevano un aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiuolo la voce era simile al fragore di grandi acque e la destra teneva sette stelle dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza appena lo vidi cadde i suoi piedi come morto ma egli posando su di me la destra mi disse non temere io sono il primo e l'ultimo e il vivente io ero morto ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi scrivi dunque le cose che hai visto quelle che sono e quelle che accadranno dopo questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto alla mia destra e dei sette cannerabri d'oro eccolo le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e le sette lampade sono le sette chiese sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria ecco in questa prima parte Giovanni ci attesta che un angelo gli chiede di scrivere in un libro ciò che ha da dirgli nel nome di Gesù quanto è importante rendere testimonianza a Gesù solo lui e inginocchiarsi soltanto a lui vedremo anche più avanti come nessuno di noi dovrà inginocchiarsi davanti a un angelo perché sono nostri i fratelli e e sono più di noi timorati di Dio ecco che ci dobbiamo inginocchiare davanti Dio e dobbiamo e dobbiamo parlare sempre per rendere testimonianza a Dio tutto quello che facciamo dobbiamo parlo per glorificare la Santissima Trinità così come il nostro fratello Giovanni viene portato in estasi e gli verrà rivelato il futuro dell'umanità un futuro il futuro che oggi stiamo vivendo rispetto alla rivelazione che ho ricevuto e il futuro che aspetterà anche la nuova umanità nel nuovo cielo e nella nuova terra con la prima e la seconda sconfitta di Satana in questa prima parte Gesù ci dice che lui è il primo e l'ultimo l'alfa e l'omega colui che ha potere sulla vita sulla morte quindi il re dell'universo quindi il figlio del padre quindi l'alfa e l'omega ed ecco che Giovanni ci ricorda che verrà una grande tribolazione nella quale il mondo verrà giudicato e verranno premiati attraverso i nuovi cieli e la nuova terra il popolo eletto ma ci ricorda anche attraverso questo primo capitolo che Gesù verrà nella gloria e tutti lo vedremo tutti tutti noi o tutti coloro che saremo ancora in vita nel tempo della giustizia finale e Gesù qua ci fa una anticipazione anche quelli che lo trafissero vedranno e vedranno la seconda venuta sulla terra ecco coloro che lo hanno trafitto in questo momento ovviamente non sono più in vita sono però saranno però presenti alla seconda venuta non in carne e ossa ma in spirito quindi con l'anima e questo ci fa presupporre che non sono entrati nella gloria di Dio non sono neanche in paradiso sono in questo infinito purgatorio che attende il giudizio attraverso la seconda venuta di Gesù ma coloro che trafiggono Gesù non sono soltanto quelli che lo hanno crocifisso duemila anni fa coloro che hanno trafitto Gesù siamo anche noi con i nostri peccati i potenti i nemici di Dio quindi questa generazione ha trafitto più di tutte le altre generazioni messe insieme Gesù e quindi Gesù verrà nel tempo della giustizia divina quando non ci sarà l'eucaristia con l'anticristo e verrà per il suo popolo il suo popolo protetto dai suoi angeli protetto dagli strumenti celesti che Gesù farà scendere al giusto tempo per vincere l'anticristo e per preparare il mondo alla sua seconda venuta parliamo dell'angelo della pace del grande monarca del papa santo di Enoch di Elia di San Pietro di San Paolo parliamo degli angeli quelli che vedete sul mio canale youtube ogni tanto pubblico dei video quindi il cielo è attivo fisicamente spiritualmente visibilmente invisibilmente il cielo c'è e sta preparando la discesa di questi personaggi per combattere l'anticristo e proteggere il popolo eletto e prepararlo alla seconda venuta di Gesù che verrà sulle nubi quindi non ritornerà nella carne nel senso che non ritornerà a incarnarsi ma ritornerà nella carne con il suo corpo resuscitato tra le nubi per giudicare il mondo e per instaurare il nuovo cielo e la nuova terra eccoci allora ci fermiamo qui e ci e ci rivediamo e vi aspetto nel secondo capitolo dedicato a queste chiese al quale l'angelo chiede a Giovanni di scrivere sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria sia lodato Gesù Cristo il cielo attraverso profeti e mistici ci avvisa dell'urgenza di aver informato stampa i libri delle rivelazioni mariane per ricordarci quando non avremo internet e la tecnologia a causa della guerra dell'anticristo degli eventi e profizie che si compiranno oltre alle preghiere sacramentali che ci occorrono adesso prima che siano impossibili da trovare in descrizione troverete il link per accedere ai miei libri ciao